E' ancora una volta nel Bresciano che la Guardia di Finanza ha scoperto un'ingente frode fiscale, costruita grazie a false fatturazioni. Elusi alle case dello Stato circa 170 milioni di euro, grazie ad un giro di false fatture emesse da due società cartiere della Valcamonica, gestite da due imprenditori di Bienno e Pisogne. Le società, formalmente operanti nel settore dei rottami ferrosi, emettevano false fatture che hanno consentito la milionaria frode al fisco e un'evasione dell'IVA per 600 mila euro. I due imprenditori potevano contare sulla complicità del titolare di un'impresa di autotrasporti con sede a Vaglioterme, che ha falsamente attestato un rilevante numero di trasporti di rottami. Il nuovo caso, scoperto dalle fiamme gialle e dall'attività ispettiva in particolare dei militari della tenenza di Pisogne, ha portato al controllo di 30 imprese tra le province di Brescia e Bergamo. 33 le persone che sono state denunciate con varie imputazioni, dall'Associazione per Delinquere finalizzata alla Commissione di Reati Fiscali, all'emissione e annotazione di fatture false alla frode fiscale. Il nuovo colpo all'evasione fiscale arriva dopo i casi delle scorse settimane, che hanno portato il territorio alla ribalta della cronaca per il recupero di quasi 23 milioni di euro da parte dell'Agenzia delle Entrate, che ha smascherato un'azienda che evadeva il fisco con operazioni finanziarie realizzate con controparti estere, e dopo la maxievasione da 122 milioni di euro di un'azienda di San Marino che si avvaleva di agenti di commercio bresciani, e ancora dopo la scoperta di un'evasione fiscale da 19 milioni di euro messa in piedi da un'impresa edile di Rovato.